Seconda lettura, pagina 12 del libro Donne senza nome di Cesare De Simone, comitato delle fate, delle fate che leggono, riprende da qualche riga prima da dove aveva interrotto. Un fiume, qui parliamo di Sandro, Sandro che fa quel sogno, che udiva quelle voci, delle donne che lo chiamavano, lui si inoltrava e scorgeva a aprirsi finestre sui grandi muri, adesso bianchi e palazzi oltre il ponte, finestre illuminate, spuntavano cespuli verdi e alberi, persino la sagoma nerastra metallica s'aggraziava. «Vieni! Eccoci!» dicevano le voci delle donne e lui di un tratto scopriva che non erano state fucilate, che erano vive. Poteva avvicinarsi e conoscerle, parlare con loro nel sole e gli esplodeva una gioia da sempre attesa, una felicità totalmente limpida da risultare insopportabile. Così si svegliava, si ritrovava seduto nel letto, sudato e ansante, si accendeva una sigaretta nel buio, badando a non svegliare Marina che gli dormiva accanto. smaltiva il sogno, l'angoscia e la gioia, facendo il punto sul lavoro fatto e sulle ricerche in corso. Sentiva il respiro quieto di Marina, fissava il puntino rosso della brace della sigaretta che forava l'oscurità, oscurità tiepida e familiare della stanza da letto. E gli tornava in mente che da qualche parte della città c'erano quei dieci scheletri di donne calcificati, terrosi. Chissà quale fossa dimenticata erano questi scheletri, algidi, ignoti, come i nomi e i volti, che erano loro appartenuti quando erano in vita. Non era una ricerca facile e ogni tanto la sua ossessione di ritrovare quei corpi e quelle storie si faceva acuta in una diapason, diapason di emozioni, ammazza questo, diapason di emozioni, parossismi e scormenti, scoramenti. Era allora, arrivò Violetta e io mi dovevo fermare. Fulo Violetta, grazie.